bentornati sul canale buongiorno bentornati sul canale arrivano notizie confortanti notizie da piano gentile sul ritorno a casa potremmo potremmo dire appunto sul ritorno di romelu lukaku forse non è ancora il momento esatto forse non sarà tra i convocati per la partita con la salernitana e quindi diventerebbero dieci le partite saltate in questa stagione tante quante negli ultimi due campionati tra inter e celsi dai tempi dell'everton lukaku non è mai stato così tanto fuori quindi evidente che insomma l'infortunio è stato tutt'altro che banale purtroppo purtroppo però ci siamo ormai ci siamo romello lukaku vede la fine del tunnel e non solo lui e poi diamo anche uno sguardo a quelle che possono essere le scelte di formazione di inzaghi per domenica anche se ci troviamo ancora a venerdì però insomma qualcosa si comincia a delineare con anche qualche sorpresa ma torniamo a lukaku chiaramente big rom sta meglio si sta allenando anche oggi a parte vedremo vedremo quale saranno gli esiti degli ultimi delle ultime sedute ma non dovrebbe comunque consentirli di di tornare nella lista dei dei convocati per la salernitana anche perché poi non potendo scendere in campo sarebbe sarebbe inutile almeno questo è quello che che filtra le ultime che ci arrivano da piano gentile io non l'escludo in realtà non l'escludo una sua chiamata anche se la vedo al momento improbabile e invece torna correa torna correa che si sta allenando in gruppo capiremo poi più più in là in questa giornata e soprattutto poi con la rifinitura di domani a che livello sarà correa ma il problema di correa diverso non era un problema muscolare era un problema tendineo e quindi non ha perso no la forma comunque che aveva che aveva raggiunto perché poi peraltro nella sua ultima apparizione in casa col barça aveva fatto anche discretamente bene e importante il recupero di correa perché perché in zaghi può tornare ad avere almeno un'opzione in più in attacco visto che nelle ultime partite stava giocando e stava scegliendo o meglio la scelta ridotta a zero di fatto era ridotta a zero era ridotta a lautaro e e gecko non a caso nell'ultima partita con il barça al campionato si era qualcuno aveva paventato e anche lo stesso in zaghi ha confermato l'idea di avanzare mikitarian sulla linea degli attaccanti e l'idea poi che è stata riposta nel cassetto confermando lautaro e gecko come coppia d'attacco coppia d'attacco che dovrebbe essere rilanciata anche contro la salernitana quindi 352 con lautaro e gecko davanti confermato onana tra i pali e c'è qualche qualche dubbio tra difesa e a centrocampo partiamo dalla difesa va verso la conferma screener che si era riposato circa 50 minuti a reggio emilia col sassuolo quindi screener sicuro dal primo ballottaggio ballottaggio tra bastoni e defray per far posto a acerbi acerbi dovrebbe quindi tornare nell'undici tutelari dopo le panchine con dopo la panchina con il barcellona da capire chi gli farà spazio dovesse fargli spazio defray che secondo me è la scelta oggi più gettonata acerbi perno centrale bastoni braccetto di sinistra dovesse fargli spazio invece bastoni confermato defray centrale e acerbi braccetto di sinistra come hanno chiuso al campo nuovo dopo appunto l'ingresso di acerbi per bastoni quindi queste sono le due le due strade che può percorrere in zaghi a oggi è più probabile l'inserimento di acerbi in mezzo alla difesa al posto dell'olandese ballottaggio anche in mezzo al campo dove confermati cialanolu e barella c'è da capire se in zaghi vorrà confermare vorrà rilanciare riproporre cialanolu e ruolo di regista in tal caso il ruolo di la maglia di mezzala sarebbe quindi di mkhitaryan oppure se puntare di nuovo su aslani quindi aslani davanti la difesa e invece in quel caso cialanolu come mezzala con mkhitaryan in panchina magari anche come gioglio offensivo da potersi giocare nel caso in cui correa non dovesse essere ritenuto utile per diverse ragioni non solo fisiche anche tattiche e attenzione sulle fasce perché proprio sulle fasce potrebbe esserci la più grande novità di formazione fondamentalmente a destra Danfris e Darmian si contenderanno come al solito una maglia l'olandese sembra un po' più avanti nelle gerarchie per il match con la serenitana ma bisogna capire anche il dispegno di energie di Danfris che viene dalla partita titolare col Barcellona la partita titolare col Sassuolo e invece in casa col Barcellona era partita in panchina quindi bisogna anche capire in zaghi che tipo di gara vorrà che tipo di atteggiamento vorrà indicare i suoi e poi occhi a sinistra occhi a sinistra perché? perché abbiamo visto un Di Marco un po' in flessione sotto l'aspetto fisico al Camp Nou ma c'è anche da capire da interpretare la gara perché forse è solo una percezione ricevuta dal momento in cui il Barcellona attaccava spesso e quindi vedevamo noi un Di Marco più attento alla fase di copertura che non a quella di proposizione e però un Gosens che entra e che fa subito male e che adesso è in fiducia forse vale la pena cavalcare l'onda Gosens anche per riavere a disposizione al 100% l'ex Atalantino e dare un po' di riposo a Di Marco anche perché poi ci sarà una settimana intera di stacco o meglio una settimana intera senza partite ma ci saranno allenamenti chiaramente da Inter-Salvinitana a Fiorentina-Inter prima poi del rush finale fino appunto ai mondiali quindi c'è da fare questa valutazione come in zaghi era stato molto abile, molto scaltro ad approfittare dell'ottimo momento di Di Marco dopo la sosta per le nazionali e peraltro una scelta che ha ripagato non solo con assist e gol ma anche come prestazione e contributo alla causa questa volta potrebbe valere lo stesso per Robin Gosens che tutti quanti ci lo descrivono come un ottimo professionista che sta dando il massimo in allenamento e ha bisogno chiaramente di fiducia e di costanza e di impiego e di rendimento questa fiducia forse finalmente gli è arrivata dopo il gol preziosissimo nonostante poi il 3-3 finale ma preziosissimo con il Barcellona e quindi potrebbe essere questa la vera notizia di formazione per domenica ci sono ancora diversi allenamenti, c'è ancora diverso tempo per scegliere ma questa può essere la novità più grande in vista di Inter Salernitana un saluto